Sono stata grande da 18 anni, allora ho fatto il passaporto, ho fatto il passaporto e ho detto qua lavoro non è né dove andare, mia sorella era a Milano e dopo ho detto è meglio andare in Svizzera, allora era via un'altra mia sorella, c'è una sposata in Svizzera, a Vald e loro ho detto ma bisogna che i miei catechi fiori a un posto per poter sapere dove andare a lavorare allora mi trova fuori a una sorella e mi ha mandato il contratto, mi ha mandato il contratto di lavoro e parti, mi sono bina una sti soldi col viado, Borgo, Trento, Trento Milan, dopo bisognava cambiare, ci appara il treno per andare a Chiasso e a Chiasso l'era una desolazione, 3D di visita, 3D, allora i raggi ai polmoni, la prima roba, chi era malai, la, e li mandava di ritorno, dopo dai cavei alle unge di piede era la visita un'altra e dormire bisognava stare là su una caresa perché non era niente, e l'era piena così, eh